Pirateria Fin dalla nascita di una legislazione alta a regolare la proprietà creativa, è esistita la guerra contro la pirateria. È difficile tracciare i contorni precisi di tale concetto, pirateria, ma l'ingiustizia che la anima è facile da afferrare. Come scrisse Lord Mansfield in un caso che estese la portata delle norme sul diritto d'autore inglese fino a includere gli spartiti musicali. Una persona può usare una copia per suonare il pezzo, ma non ha alcun diritto di defraudare l'autore del profitto moltiplicando le copie e usandole a proprio piacimento. Oggi siamo nel bel mezzo di un'altra guerra contro la pirateria. Una guerra provocata da internet che rende possibile la diffusione dei contenuti in modo molto efficace. La condivisione di file tramite reti peer-to-peer è una delle più efficienti tra le giardie efficienti tecnologie attivate dalla rete. Mediante l'intelligenza distribuita, i sistemi peer-to-peer facilitano la distribuzione di contenuti secondo modalità inimmaginabili una generazione fa. Tale efficienza non rispetta i canali tradizionali del diritto d'autore. La rete non discrimina tra la condivisione di contenuti tutelati o non tutelati da copyright. Esiste per so in circolazione un'ampia quantità di materiale protetto dal diritto d'autore. Questa circolazione di materiale condivisibile ha a sua volta attizzato la guerra. Poiché i detentori del copyright temono che tale condivisione finirà per defraudare l'autore del profitto. I combattenti si sono rivolti alle corti di giustizia, alle assemblee legislative e con sempre maggior frequenza alla tecnologia per difendere la loro proprietà contro questa pirateria. Una generazione di americani, mettono sull'avviso questi combattenti, viene allevata nella convinzione che la proprietà debba essere gratuita. Dimentichiamo i tatuaggi, lasciamo perdere i piercing, i nostri figli stanno diventando dei ladri. Non c'è alcun dubbio che la pirateria non sia una cosa giusta e che i pirati vadano puniti. Ma prima di chiamare il boia dovremmo inserire la nozione di pirateria nel giusto contesto. Perché, pur trattandosi di un concetto usato sempre più spesso, si basa su un'idea quasi sicuramente sbagliata, che si può descrivere più o meno nel modo seguente. L'opera creativa possiede un certo valore. Ogni volta che uso l'opera creativa di altri, la elaboro o ci costruisco sopra, ne traggo qualcosa dotato di valore. Ogni volta che lo faccio dovrai chiedere il permesso. Prendere qualcosa di valore da altri, senza il loro permesso, è un'ingiustizia. È una forma di pirateria. Questa visione penetra in profondità nell'attuale dibattito. È quel che Rochelle Dreyfus, professore di legge presso la New York University, definisce criticandola la teoria sulla proprietà creativa del «se vale, allora c'è un diritto. Se esiste un valore, allora qualcuno deve vantare un diritto su di esso». È il punto di vista in base al quale l'ente per i diritti dei compositori, ASCAP, ha denunciato le Girl Scout per non aver pagato i diritti per le canzoni che le ragazze cantavano attorno al fuoco durante le escursioni. Esisteva un valore, le canzoni, per cui doveva esserci un diritto. E questo valeva anche per le Girl Scout. Quest'idea è sicuramente una possibile interpretazione del modo in cui dovrebbe funzionare la proprietà creativa. Potrebbe ben proporsi come possibile progetto per un sistema giuridico a tutela di tale proprietà. Ma la teoria del «se vale qualcosa, allora c'è un diritto» non è mai stata la teoria americana sulla proprietà creativa. Non ha mai guadagnato terreno nell'ambito della legislazione. Nella nostra tradizione, invece, la proprietà intellettuale è uno strumento. Si imposta la struttura di base per una società riccamente creativa, ma rimane subordinata al valore della creatività. L'attuale dibattito ha capovolto la questione. Ci preoccupiamo così tanto di proteggere lo strumento che abbiamo perso di vista al valore. La fonte di questa confusione sta in una distinzione che la legge non si cura più di tracciare. La distinzione tra la ripubblicazione dell'opera di qualcuno da una parte e la costruzione a partire da tale opera o la sua trasformazione dall'altra. Quando nacque, la legislazione sul copyright si occupava soltanto della pubblicazione. Oggi regola entrambe le situazioni. Prima dell'avvento delle tecnologie di Internet, questa fusione non aveva grande importanza. Le tecnologie per la pubblicazione erano costose e questo implicava che gran parte dell'editoria fosse commerciale. Le imprese commerciali potevano sostenere il fardello giuridico, perfino il peso della bizantina complessità che avevano assunto le norme sul diritto d'autore. Era soltanto un ulteriore costo nell'esercizio di quell'attività. Ma con la nascita di Internet, questo limite naturale alla portata della legge è scomparso. La legge controlla non soltanto la creatività degli autori professionali, ma di fatto quella di chiunque. Anche se una simile estensione non avrebbe grande importanza qualora le norme sul copyright regolassero soltanto la copia, quando tali norme agiscono in modo così ampio e oscuro come avviene oggi, allora l'estensione diviene molto importante. Oggi il peso di questa legge supera enormemente ogni beneficio originario. Sicuramente ha effetto sulla creatività non commerciale e sempre più anche su quella commerciale. Perciò il ruolo della legge è sempre meno quello di offrire sostegno alla creatività e sempre più quello di tutelare determinate industrie nei confronti della concorrenza. Proprio nel momento in cui la tecnologia digitale potrebbe liberare un'eccezionale vena di creatività, commerciale e no, la legge è grava su tale creatività con norme follemente complicate e vaghe e con la minaccia di pene oscenamente severe. Finiremo per assistere, come scrive Richard Florida, alla nascita della classe creativa. Purtroppo stiamo assistendo anche all'eccezionale proliferare di regolamentazioni per questa classe. Questi oneri non hanno alcun senso nella nostra tradizione. Dovremmo iniziare a capire un po' meglio tale tradizione e a porre nel contesto appropriato le attuali battaglie relative al comportamento definito pirateria.